Mamadi che cosa fai all'interno di questo centro sociale? Il centro sociale si aiuta i ragazzi che sono più in difficoltà, si portano a giro, fanno colazione, il laboratorio. Mamadi è un ragazzo del Senegal, ha 25 anni, da un po' di tempo si trova in Italia, si è ambientato molto bene, addirittura ha trovato il tempo per svolgere un'attività sociale non indifferente. Partecipa ai laboratori di un'associazione dedita al supporto fisico e psicologico dei più deboli. L'altro ieri purtroppo è stato protagonista di una disavventura. Alcuni, per usare un eufemismo, civilizzati, uomini bianchi, lo hanno letteralmente aggredito senza alcun motivo. Tu stai dedicando la vita al prossimo, che cosa pensi di quelli che invece hanno mostrato di voler calpestare la tua? Sono arrabbiato, dispiaciuto, perché io aiuto sempre la gente, i miei prossimi. Se qualcuno mi vedo, sono diversi da loro, per quello mi manca il rispetto oppure mi piccia. Questa è una scatrice, è indimenticabile, è imperdonabile. Presidente, è un ragazzo d'oro che si impegna molto nel sociale. Sì, Mamadì è un... non lo definirei un ragazzo d'oro, lo definirei un ragazzo sveglio e normale. Si sta impegnando per migliorare la propria condizione e per professionalizzarsi. Senta Presidente, ma secondo lei è più un caso di razzismo o un caso di stupidità? Dunque, credo sia un caso particolare di razzismo e questa sarebbe una cosa da... come dire, questo episodio è proprio paradigmatico di come il razzismo si diffonde. Se si propaga e si diffonde anche agli stessi stranieri che vivono in Italia, alla fine della fiera non farà che aumentare la violenza, aumentare il rancore sociale, le difficoltà di convivenza e questo non credo porti bene a nessuno.